Ciao, sono Roberto Lacorte. La mia promessa è da zero a professionista. Cosa si intende da zero a professionista? Una persona che non ha mai operato nel mercato immobiliare, e cioè zero, può diventare un professionista come me, e cioè fare l'agente immobiliare, guadagnare soldi nel mercato immobiliare. Ti spiego velocemente. Per riuscire a ottenere dei guadagni nell'immobiliare, sicuramente non ti serve una vita, ma ti serve un pizzico di impegno per riuscire a concretizzare già dal primo anno. Io ho dei dati che mi permettono di capire quali sono i vantaggi del mio metodo. I vantaggi del mio metodo sono che se tu attui step by step tutti i passaggi che io ti spiegherò, puoi tranquillamente in un anno guadagnare 100.000 euro. Attenzione, io ho detto in un anno puoi guadagnare 100.000 euro, sicuramente non nel primo anno. Io ho dei dati che dicono che al primo anno sicuramente puoi fare già i tuoi 50-60.000 euro se sei una persona lungimirante, sveglia, che mette in pratica tutto quello che gli viene spiegato. Io ho avuto a che fare con delle persone che sono riuscite a fare questi numeri, ma ho avuto persone che sono riuscite a ottenere di più e persone che sono riuscite a ottenere di meno, o meglio persone che non hanno proseguito a fare l'agente immobiliare. Quindi devi sapere che nel primo anno ti toccherà lavorare per crearti quella che è la reputazione e farti un posizionamento nel mercato. Dal secondo anno vedrai esplodere la tua attività. Dal terzo anno i guadagni sono certi. Quindi quello che io ti voglio spiegare è che non serve essere perplessi sul lasciare magari un lavoro sicuro per prendere un lavoro incerto, perché devi sapere che col mio metodo ogni compravendita, e cioè tra un venditore e un acquirente l'intermediazione che verrà fatta per compravendere un immobile, almeno porti a casa 10.000 euro. Cosa si intende? Perché io ti spiegherò come utilizzare una psicologia robusta per poter ottenere 5.000 euro di minimo con un 4% di provvigione. Sono delle cifre importanti che siamo in pochi capaci in Italia a poter attuare, perché l'agente immobiliare è sempre succube di un sistema perché non riescono a devolversi, non riescono a innovarsi e quindi sottostanno a delle regole che spaventano chiunque. In realtà non funziona così, perché se tu hai un regolamento che consente le persone di accedere a te sotto determinate azioni, probabilmente è molto semplice ottenere queste cifre. Quindi seguimi per ottenere questi risultati.